La manifattura italiana nasce da qui, quindi è chiaro che l'attenzione del governo è massima, la volontà di dialogare con loro, di capire quali sono le misure che possono incentivare ancora più e sostenere la crescita di tutto questo settore. Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima di lasciare l'Assemblea Nazionale della CNA ad Ancona, 5.000 persone al Palaprometeo, la convention nazionale nella regione più artigiana d'Italia. Un fisco equo per le imprese è stato rilanciato anche dal messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, letto durante l'assise condotta dalla giornalista Mirta Merlino. Il rallentamento dell'economia, in particolare per tensioni che frenano il commercio e alimentano l'incertezza a livello internazionale, evidenzia, scrive il Presidente Mattarella, la necessità di un'Europa forte per affrontare le sfide interne ed estere e di sostenere la fiducia di famiglie e imprese per rilanciare la domanda. Investimenti in infrastrutture, innovazione e formazione sono indispensabili per cogliere le opportunità delle nuove tecnologie in maniera diffusa, ridurre divari e valorizzare il contributo delle piccole imprese e dell'artigianato fondamentale nel nostro Paese in termini di occupazione e produzioni di qualità, scrive Mattarella. Sia dal primo ministro, sia dal ministro dello sviluppo economico. Contiamo una loro disponibilità, apertura, d'altra parte oggi qui c'è il popolo di piccoli imprenditori, oltre 5.000 persone, un'assemblea straordinaria dove pulsa davvero il cuore, la voglia di esserci e di dare una mano a questo Paese, perché noi difendiamo i nostri interessi naturalmente ma siamo un'organizzazione che pensa che l'Italia debba fare un salto in avanti su un progetto di sviluppo, perché senza sviluppo e senza crescita questo Paese non ridurrà il suo debito pubblico e non ce la farà. Noi ci faremo carico delle nostre responsabilità, ma non vorremmo in nessun caso essere indicati come coloro che sono responsabili di qualcosa in questo Paese. Noi siamo una risorsa vera di questo Paese. Sul nodo del carcere agli evasori? L'importante è che si metta in carcere dopo aver verificato le cose che si accadono, insomma non prima, non il carcere preventivo, in Italia abbiamo qualche disturbo di questa natura e poi il carcere, sempre il carcere, insomma per carità, noi siamo favorevoli a tutte le battaglie contro l'evasione, ma contro l'evasione si accerta, si fa, si fa la battaglia, sono tanti modi di fare la battaglia e forse l'ultimo modo è quello di prendersi con l'idraulico e il faregname, è quello che è diventato quasi una leggenda. Il messaggio più forte è che il settore dell'artigianato e della piccola impresa sia messo al centro dell'attenzione della politica economica del governo, questo è il messaggio che vogliamo dare, ovviamente questo si porta dietro tutte le problematiche che già conosciamo, dal fisco alla burocrazia, ad alcuni aspetti che riguardano leggi di bilancio, sul quale ci sono luce ed ombre, alcune perplessità, altre attenzioni, insomma speriamo in un dialogo costruttivo. La perplessità più grande riguarda in questo momento la non definizione di quella che era chi chiamavamo la flat tax, cioè quella riguardante le imprese da fino a 65.000 euro e anche quelle da 60.100 dove Pares compaia, quindi su questo vorremmo delle chiarezze. Ce ne sono altre che riguardano la continuità rispetto, per esempio, l'impresa 4.0 noi vorremmo forse un po' più strutturata negli anni perché altrimenti le imprese non riescono a programmare i loro investimenti. Rispetto al pagamento con il post, dalla CNA il messaggio è forte, basta accanimenti, persecuzioni e discredito contro i piccoli. La diffusione della moneta elettronica deve essere accompagnata dal drastico abbattimento dei costi e delle commissioni, da meccanismi incentivanti e non da obblighi. Noi non siamo assolutamente contrari a una modernizzazione del Paese che passa attraverso l'utilizzo della moneta elettronica. Certamente non deve essere penalizzata, quindi qui i problemi sono da un lato delle incentivazioni ma dall'altra anche che le banche comincino a fare il lavoro delle banche. Quindi se aumentano devono diminuire i prezzi. Il dialogo c'è con il Governo, anticipato anche da diversi incontri prima dell'Assemblea della CNA con il Premier Conte e il Ministro Patuanelli. Spesso si parla degli artigiani come dei piccoli, in realtà sono quelli che rendono grande il nostro Paese, rappresentano la colonna portante della nostra economia, un po' lo scheletro della struttura economica del nostro Paese. Sappiamo benissimo le difficoltà che incontrano e che hanno incontrato negli ultimi dieci anni. Io credo che la prima cosa che abbiamo fatto non si sottolinea secondo me molto è aver scongiurato l'aumento dell'IVA e questo ha un valore importante anche per questa categoria, anzi forse soprattutto per questa categoria che avrebbe di fatto visto decrescere ulteriormente la domanda interna. Per cui questa è la prima cosa che abbiamo voluto fare. E rispetto alla flat tax? Fine ai 65.000 euro avranno tutte le rassicurazioni del caso. Sull'estensione che era prevista stiamo lavorando, aver scongiurato l'aumento dell'IVA ha fatto sì che ci sia necessariamente una concentrazione di risorse su quel canale. Dopodiché io dico che la legge di bilancio è una partita che si gioca in tanti tempi. C'è un tempo che è già stato giocato, quello della nota aggiornamento al DEF, il secondo tempo è stato il documento inviato all'Europa, adesso la legge di bilancio nella sua formulazione verrà definitiva da come esce il Consiglio dei Ministri, verrà trasmessa alle Camere, però poi ci sono i tempi parlamentari, io credo che ci siano ancora spazi per migliorarli. I marchigiani è gente laboriosa e di solito parla abbastanza poco, volevamo porre al centro anche questo nostro territorio, l'economia che noi rappresentiamo perché essere laboriosi non significa poi essere silenziosi, vogliamo far sentire la nostra voce, le nostre caratteristiche, siamo la regione più artigiana d'Italia e contribuiamo con tutti gli altri a produrre una parte importante del piede. Non pensiamo che possa essere questo mondo come quel mondo che viene un po' etichettato come colui che crea dei problemi, no, noi siamo una risorsa assolutamente, le piccole imprese hanno sempre caratterizzato il sistema produttivo in una realtà come la nostra ma in tutta Italia, quindi in un qualche modo vanno aiutato sotto il profilo burocratico, sotto l'aspetto del fisco, sotto l'aspetto del credito che è uno degli elementi fondamentali. La CNA nazionale ci ha dato la possibilità di poter ospitare l'Assemblea nazionale qui nelle Marche, è la prima volta che un'associazione di categoria porta qui nelle Marche la propria Assemblea nazionale. 5.000 delegati, la CNA ha fatto uno sforzo enorme a far sì che gli artigiani fossero qui, abbiamo Conte, abbiamo la possibilità di dimostrare ai nostri parlamentari, onorevoli senatori che sono anche qui, la forza del mondo dell'artigianato, la forza della CNA e oggi più che mai dobbiamo tener conto che dobbiamo snellire la burocrazia all'interno del terremoto, altrimenti le pratiche non andranno avanti, stiamo perdendo dei territori a livello di coesione sociale come quelli maceratesi, ascolani e fermani, stiamo perdendo delle attività nel loro interno e oggi più che mai la ricostruzione deve accelerare il passo. Spero che anche il Premier Conte possa percepire la forza di questo movimento marchigiano che con forza vuole riniziare a dire la sua a livello turistico, a livello economico, a livello di ripopolamento di quelle zone. Nel suo intervento il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha spiegato come le marche siano fondate sulla piccola impresa e come quattro anni fa sia stata fatta proprio la scelta di non far pagare le tasse per tre anni a chi apre una nuova impresa. Dall'Assemblea di Ancona più volte è stata richiamata la necessità di un'attenzione forte sulla ricostruzione anche economica del centro Italia, proprio nel giorno del terzo anniversario della scossa del 26 ottobre che ha colpito duramente specie le marche e dopo pochi giorni la pubblicazione in gazzetta del decreto Sisma. Di semplificazione e di maggior coinvolgimento delle aziende del territorio. Quelli che riguardano i dipendenti, chi lavora, i 700 persone che oggi sono nei comuni, negli uffici della ricostruzione, tutti precari, non possono, dopo aver imparato il loro lavoro, essere mandati a casa, quindi sono proventi essenziali. Terzo è quello di aprire un tavolo sullo sviluppo. Sappiamo che ricostruzione dovessero partire strumenti più accelerati significa anche dare la possibilità di avere agevoluzioni fiscali, strumenti che rilancino il territorio. I fondi europei che abbiamo utilizzato in questi mesi, parliamo di oltre 100 milioni di Euro, hanno dimostrato che c'è una grande vitalità, quindi c'è capacità di mettersi in moto, di investire, c'è voglia di investire, di crescere con ulteriori strumenti, potremmo accompagnare ancora meglio questa crescita. La riconversione del decreto per noi è il momento fondamentale perché dopo i primi contenuti vorremmo vedere tutti gli altri.